Grazie a tutti. Tutte le schede elettorali verranno portate in 382 centri di spoglio, 380 di questi in Gran Bretagna, uno in Gibilterra e uno nell'Irlanda del Nord. In questi 382 posti di centri di spoglio verranno portate dunque tutte le schede, i risultati verranno comunicati domani mattina alle 7, orario inglese, le 8 italiane, dal municipio di Manchester. Se il voto sarà importante per gli inglesi lo sarà anche per l'Unione Europea. Domani mattina alle 10 e mezza è in programma un comitato ristretto importante, un vertice ristretto nell'Unione Europea per valutare proprio i risultati del voto. Parteciperanno il Presidente della Commissione Europea Juncker, il Presidente dell'Unione Europea Donald Tusk, il Presidente dell'Europarlamento tedesco Schulz e il Presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea. Saranno loro a tracciare la linea politica all'indomani del voto di quest'oggi sulla permanenza o meno della Gran Bretagna in Unione Europea. Saranno loro a tracciare la linea politica all'indomani del voto di quest'oggi sulla permanenza o meno della Gran Bretagna in Unione Europea.